Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Franchi girelle, Infineering Cacette Eisi Uno Cacette Cacette Michele Quasi 1 4 3 3 4 4 5 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 8 ありがとうございます これさ an 11 いい 最強に 入ってるわ 個人 bucks んだ quello che succede per Sì Voi, ti sono assaggio a 5台 o 6台 per la città che tirerà fuori. Ci sono andati nel loro attacchiare. Sì, è vero. Bicchio! Quinti? Vi chassi! Ok. Bicchio! sta e a ta ah ma a nene a tutti i settei in grande con la mano sono macchina io credo yeah no 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 c'è una prd mercado aito ci sto se c'è unico perché è la sua vita Board c'è una storia nina casa Si Enrico Sì, sì, sì. ... ... ... ... ... ... ... che di che io dlatego che hanno fatto più giocci L'aria Del 5 Il sorprete a te Che Do' Do' Che C'è Si Tu Tu Gewagare Che C'è Di Andiamo Che C'è L'è Cosa che sto facendo? Sì Questo è 30 minuti che ci sono passati. Questo è meglio. Questo è DDoS. E? non è vero è vero è vero che significa non è vero però non è vero non è vero è vero è vero ma cosa Cosa? Ah, ok, Kariya. Ah! Non è tutto? Ok, ok, ok. no 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 ooo ooo oma ii na ii i 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